Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, un altro what's in my bag, questa volta però abbiamo con noi lo zainetto coveri, quello che ho acquistato ultimamente, vi faccio vedere subito lo zaino, come vi avevo già mostrato nella unboxing, diciamo questo zainetto non è in vera pelle anche se sotto è un po' scamosciato sopra finta pelle è fatto in questa maniera è comodissimo perché vedete ha una lampo qui una qua e poi una centrale e adesso vi faccio vedere che cosa contiene la prima lampo allora qui dentro ho messo fazzoletti spray peperoncino il mio coltellino cascabile la mia pila survivor chiavi dell'auto e qui abbiamo finito poi dietro c'è questa lampi e qui al momento non ho nulla ma perché di solito qua tengo il telefono che sto usando adesso come vedete questa borsa zaino si trasforma in questo modo tirando la bretella facendo così diventa uno zainetto poi fatto in questo modo è molto carino a è molto compatto anche per le persone non troppo alte va bene la misura allora qui dentro ha un po' di cose ma sono quelle che uso diciamo nel quotidiano non quando sono in viaggio eccetera allora crema mani nella prima taschina poi nella seconda taschina c'è una pezzettina per gli occhiali e per questo specchiettino della dior è fatto così doppia faccia poi dentro ho anche il ventolino il secondo paio d'occhiali questi la vista di riserva di emergenza diciamo questa power bank una spazzolina sacchettino per la spesa con i gettoni di due dimensioni questo viene dato dalla conad poi il mio portafoglio questo è con le iniziali fatto così internamente qui ha portatessere e dentro ha altre portatessere poi nella tasca centrale perché c'è un taschino centrale io tengo portamonete e portatessere poi ho nella tasca qui in mezzo perché praticamente ha fatto così alla tasca grande qua una tasca qui e una più piccola qua dietro qui ho sempre solite mascherine non mancano mai sorbenti e copri toilet sit cioè per i luci quando siete fuori ho fatto così ho preso da tiger questo questo ho preso da tiger così molto comodo per l'igiene una penna anche questa presa da tiger tanto tempo fa che ha anche questa un ventolino così così questo 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 il questo dentale questo vedete ha il doppio cavo questo va bene per gli android diciamo e anche gli apparecchietti tipo il ventolino e questo invece per l'iphone diventa doppio funziona molto bene questo l'ho preso da primark un po di tempo fa c'era di tutti i tipi di tutte le lunghezze e mi pare di aver finito quindi la borsa è questa contenuto è poco perché ovviamente per tutti i giorni c'è l'essenziale manca l'acqua e comunque porto anche quella sempre allora spero che questo video vi sia piaciuto e vi lascio questa carellata di oggetti e vi saluto al prossimo video ciao a tutti